Amici di Motorbox, bentornati a un nuovo appuntamento con la nostra rubrica Motor Talk, una serie di incontri con i costruttori auto e i loro manager personaggi chiave, incontri attraverso i quali a un anno abbondante ormai dallo stoppio della pandemia di coronavirus intendiamo misurare lo stato di salute del settore e in particolare cercheremo di capire come si è evoluto il rapporto tra i marchi stessi e il pubblico italiano. Un altro tema che tratteremo è quello dell'elettrificazione e di come nel corso della pandemia stessa questa tecnologia abbia ricevuto un impulso davvero decisivo. Ospite della puntata odierna di Motor Talk è il direttore di Seat e Cupra Italia, Piano Antonio Vianello. Buongiorno Piano Antonio e grazie di essere con noi. Buongiorno e buongiorno a tutti voi, grazie a voi per l'opportunità. Bene Piano Antonio, la prima domanda che ti formula è questa. Negli ultimi 12 mesi come è cambiato il modo di Seat e di Cupra di attirare l'attenzione del cliente, di portare avanti la trattativa di acquisto, in sostanza di vendere un'automobile in più rispetto alla concorrenza? Diciamo che le fasi sono state diverse. La prima è quella che ha toccato tutti nel primo lockdown dello scorso anno. Noi siamo stati tutti a casa di colpo. La prima cosa che abbiamo pensato era quella di riunirci tutti come un team allargato, compreso i concessionari, che in alcune zone all'inizio, ricordiamo, erano state colpite in modo drammatico, anche da molti stessori familiari, non solo aziendali. E lì siamo stati fortunati perché siamo riusciti a collegarci tutti. Abbiamo sviluppato immediatamente, scritto al volo, tutti a casa, la formazione, il nuovo programma, progettando dei webinar, già per dirti a marzo dell'anno scorso, con tutti i concessionari. Abbiamo collegato tutti i venditori tramite WhatsApp Business a tutti i clienti che volevano comunque informazioni anche durante i periodi di chiusura. Quindi ci siamo preparati immediatamente a quello che sarebbe stato il lancio di Leon a maggio. Lo dico con il sorriso in questo momento non perché voglio essere cinico o poco sensibile, ma perché ci ha aiutato ad accelerare un processo comunque che era iniziato. Quindi l'abbiamo vissuto anche positivamente, nel senso che abbiamo imparato a settarci su nuovi standard, a capire che le preoccupazioni potevano essere ben altre rispetto alle elementelle classiche che si fanno al lavoro. E in questa scala di priorità abbiamo avuto una reazione meravigliosa di questo team allargato, che non è solo il mio team qui a Verona, ma tutti i concessionari. Questo ci ha permesso di svolgere un 2020 rispettando gli obiettivi, garantendo anche il sostentamento della nostra rete organizzativa, perché ti dico che mi sostituono anche una grandissima responsabilità sociale, nel fatto che non solo c'era da portare a casa l'obiettivo, ma c'era anche da garantire comunque il lavoro a tutte queste famiglie, anche se magari non direttamente legate alla mia, diciamo, gerarchia, però comunque se va bene il business va bene per le concessionarie anche per le famiglie. E così è stato. Difatti abbiamo salvato i bilanci delle concessionarie lo scorso anno. Quindi la digitalizzazione è stato un elemento che ha caratterizzato non solo le caratteristiche di prodotto dei nostri automobili, nel frattempo sia Seat che Cupra ha rinnovato completamente tutto il sistema di collegamento delle auto, non parlo solo delle vetture nuove come Seat Leon o come Cupra Formentor, ma anche in vetture già lanciate, per cui anche Ateca, Ibiza, Arona si sono aggiornate, terraco su tutta questa connettività che ormai è assoluta con l'auto. Poi faccio il giancio sempre con l'altro elemento della tua domanda, che è l'elettrificazione. Questa digitalizzazione ha portato anche benefici su questo campo, perché abbiamo lanciato tutta la nostra gamma ibrido plug-in, quindi vetture che possono sì andare con un motore turningo, ma possono anche garantire un'autonomia esclusiva elettrica, e la digitalizzazione anche in questo caso è stata portatrice di novità molto utili, perché il collegamento con l'auto permette di caricarla da remoto, permette di gestire la carica domestica con i picchi che si possono avere a casa con altre utenze di altri elettrodomestici, si può programmare la propria agenda in modo da caricare l'auto ed essere pronta nel momento in cui dobbiamo prenderla per andare a un appuntamento. Quindi anche questa connettività legata non più come una volta alla parte più di intrattenimento, di musica o di navigazione, ma anche di controllo completo dell'auto è molto buona, che tra l'altro è pronta per, nel momento in cui anche nel nostro paese introdureremo il 5G, ad un collegamento anche con le altre cose che si muovono, che possono essere funzioni come ad esempio quelle semaforiche, ma possono essere anche gli altri utenti della strada, come i ciclisti con uno smartphone, i motociclisti con uno smartphone, che saranno tutti visti dall'automobile che potrà quindi essere ancora più avanzata nella forma di mobilità autonoma, predittiva, come già abbiamo inserito i nostri prodotti, quindi che praticamente già è tutto predisposto. Quindi, ripeto, una situazione terribile che ancora c'è, però che se vista con occhi che guardano in prospettiva potrebbe anche aver avuto dei benefici nell'accelerazione che ha avuto, sia nella digitalizzazione che nell'elettrificazione nel nostro campo, quindi questo è il nostro spirito. Dobbiamo gestire la situazione attuale, ma dobbiamo anche pensare che ne usciremo e ne usciremo addirittura accelerati nel progresso. Certo. Quindi, digitalizzazione ed elettrificazione come due facce della stessa medaglia. Parlando invece di soluzioni finanziarie, mi ha colpito quell'iniziativa SEAT senza impegno che si distingue nel panorama per condizioni abbastanza particolari. Me ne vuoi parlare brevemente? Sì, questo è nato durante l'isolamento, perché in quei mesi dicevamo bene, usciremo, siamo convinti, riprenderemo a fare il nostro lavoro, però le persone saranno cambiate e l'incertezza sarà molto più alta. Quindi ci siamo messi a studiare con Volkswagen Bank una soluzione che permettesse di dare tranquillità, perché comunque l'esigenza di mobilità c'era, addirittura ancora più forte, perché col fatto che la mobilità individuale adesso è quasi una necessità, per motivi di sicurezza o di esigenze personali. Senza impegno è nata così, è nata con l'idea di creare qualcosa che non fosse solo di comunicazione, quindi che non avesse postille, fregature, condizioni strane, piccoline, scritte male, ma senza impegno era proprio senza protubugazioni, senza anticipo, senza il dovere di tenersi l'automobile perché dopo il primo mese la puoi restituire senza penali, con una rata relativamente bassa, una rata che si paga addirittura da media world per un televisore e invece hai un'automobile. Al momento penso che non esistano dei prodotti simili, difatti sta avendo successo, siamo partiti prima con Arona e con il metano che poteva essere anche un'abbinata interessante sempre nel tema del risparmio e adesso invece ci siamo spinti anche includendo l'elettrificazione perché anche la gamma ibrida, ad esempio Leon Ibrida, può essere acquistata con questa formula, quindi tu hai un zero anticipo, hai una rata sostenibile e dopo un mese se le tue condizioni familiari cambiano oppure per altre cose che possono accadere nella vita puoi ridarci l'automobile senza penali. Mi riallaccio proprio al tema dell'elettrificazione. Ecco, a me sembra che mentre SEAT porta avanti un percorso più graduale è al marchio Cupra che viene assegnato il ruolo di acceleratore di questa nuova tecnologia. Ecco, che cosa dobbiamo aspettarci nei prossimi anni, a quali step assisteremo prossimamente in attesa di una sempre più probabile svolta dell'auto 100% elettrica? Allora, Cupra è partita subito, come giustamente hai sottolineato, di fatto le vetture in gamma, quindi parlo ad esempio di Formentor, ma anche di Leon, hanno tutte una versione ibrido plug-in, addirittura abbiamo una gamma, cioè Formentor puoi scegliere diversi allestimenti, diverse potenze, penso ci siano tanti modelli in cui addirittura c'è una gamma, no? Ibrido plug-in, e quindi l'elettrificazione è partita alla grande, come dici. Tra l'altro quest'anno poi la lanceremo il primo modello completamente elettrico di Cupra, che è Cupra Born, è stata già svelata, sarà una vettura particolarmente interessante per il nostro mercato perché avrà dimensioni relativamente compatte, partiamo di dimensioni tra 4 metri e 34 metri e 40, che però beneficiano della grandissima abitabilità di una vettura con il pianale il più moderno del gruppo Volkswagen, che è il MEB, quindi ha tutta la disposizione degli organi sia di propulsione che di accumulo dell'energia sotto, no? Tipo una, io dico sempre che è tipo una barretta di cioccolato, tra le ruote, dove sopra poi si sviluppa tutto lo spazio disponibile. Lo faremo però in spirito Cupra, quindi urleremo al mondo come un'auto elettrica può essere bella di design, può essere piacevole da guidare, quindi non solo questo dragster, no? che è caratteristico di qualsiasi vettura elettrica dove tu premi e qualsiasi scemo può essere capace di accelerare e andare, ma invece cureremo anche l'aspetto dinamico e di godimento della guida. Quindi questo sarà Born e si rifletterà, come ho detto, anche sul design sia dell'interno che dell'esterno, quindi lavoreremo sui materiali, sui colori. Abbiamo la fortuna poi che ci sono degli italiani in Cupra, perché cito due italiani come ad esempio la Bate, che è il numero uno di Cupra, o la Sangalli che sta studiando tutta la parte dei materiali e degli interni e se posso da italiano, no? C'è un certo orgoglio perché si sta riflettendo anche questo gusto nel prodotto. Sì, tra l'altro Seat e Cupra sono stati individuati un po' come laboratorio all'interno del gruppo Volkswagen, laboratorio in cui accelerare il processo di elettrificazione, mi pare. Sì, infatti, prima dicevi che Cupra partiva, no? È anche vero però che Seat ha in serbo questo grandissimo progetto, cioè il grande gruppo Volkswagen con tutti i marchi che ha dato il compito a Barcellona non è banale, no? Significa anche avere un ruolo fondamentale e lo faremo poi anche nelle due ruote, sai, no? Perché nelle prossime settimane lanceremo il primo scooter elettrico del gruppo Volkswagen, gli scooter di Seat e anche in questo caso prima facevi il collegamento giusto tra l'elettrificazione e il periodo che stiamo passando, pensa che con un euro, un euro, potrai ricaricare completamente lo scooter e fare 125 chilometri. Non male, no? E tra l'altro poi lo farai con un asciuco, quindi non hai bisogno di tecnologie particolari, quindi attacchi alla presa di casa o dell'ufficio, sotto la sella stacchi come un trolley di quelli che usavamo quando volavamo in aeroporto, da cabina, stacchi sotto la sella un trolley che fa uscire le ruote e senza far fatica lo porti su in ascensore o su in ufficio o in casa e lo carichi come il telefonino, no? Quindi grande semplificazione della mobilità e poi dopo c'è il grande progetto a cui accennavi e che abbiamo comunicato lunedì, no? Che è solo all'inizio, diciamo così. Quindi rivoluzione della mobilità a due, a quattro ruote, a 360 gradi. Ultima cosa, più una provocazione che una domanda, in tutto questo quale spazio per il diesel? Un carburante che per Seat è sempre stato un cavallo di battaglia. Allora, abbiamo dei modelli come ad esempio Leon che vendiamo in cinque motori, cioè benzina, mild hybrid, ibrido plug-in, metano e turbodiesel, no? Ti fa capire come la tecnologia comunque prevede il fatto che si possano garantire tutte le esigenze. Io ovviamente faccio parte di un gruppo che sta andando verso l'elettrificazione più spinta, però comunque ancora l'ode al diesel, nel senso che esistono delle esigenze in certe, anche certe regioni d'Italia, magari dove si fa ancora tantissima strada, dove magari le infrastrutture ancora non sono così pronte, anche se lo saranno a breve. Sai che il gruppo Volkswagen sta lavorando tantissimo con le esposizioni e anche con aziende importanti come Nelix per elettrificare tutto il paese, però diciamo che comunque il turbodiesel ancora ha una sua utenza fondamentale e di fatti ancora lo offriamo, ha un bellissimo mix all'interno dei nostri modelli e abbiamo adeguato tutti i nostri motori alle normative anche sulle emissioni e questo ha portato un'altra cosa stupenda, che consumano ancora di meno, perché le emissioni sono legate al consumo e ad esempio in questi giorni stiamo lanciando Formentor col turbodiesel ed è impressionante i livelli di CO2 che ha e quindi di conseguenza anche i consumi. Quindi sì hai ragione, comunque è una motorizzazione che ancora comunque funziona e serve. Diciamo che ci sono equilibrati i mix dai, nel senso che l'ibrido sta crescendo tantissimo, ma è una percentuale ridicola, perché non ci sta, l'elettrico adesso lo lanceremo e il turbodiesel comunque ha una sua quota importante. Certo. Bene, io ringrazio Pierantonio Vianello, direttore Seat e Cupra Italia, per la spontaneità e la simpatia con cui ha voluto condividere queste riflessioni, queste informazioni e vi do appuntamento alla prossima puntata di Motor Talk. Ciao a tutti. Grazie, ciao.